Un buon pomeriggio a tutti voi da vostro Professor Tunza, miau miau, titolo il Sexy Tango. Vai maestro! Le luci si spengono, mentre la musica parte, e tutti stringi a me. Così balliamo un Sexy Tango. Al buio sento le esperte mani portarmi verso i tuoi passi. Sul caldo petto batte il desiderio al ritmo di questo Sexy Tango. Il tuo respiro si avvicina al mio, e le labbra si fondono in un caldo bacio d'amore. Ma se la musica finisce, le nostre lingue volano nella fantasia più elevata. La luce si accende, ti guardo e... Cacchio! Ma tu sei Giulio il travestito del paese! Ciao! 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 Grazie.